La giornata di oggi è un momento di incontro tra i vari soggetti pubblici e privati che si occupano della tutela dei minori in rete. La partecipazione di tanti ragazzi in questa sede universitaria testimonia l'importanza e l'attenzione dei più giovani verso internet e verso la tutela dei loro dati personali in rete. Tutti quanti noi oggi siamo qui per discutere, confrontarci e lavorare insieme sempre di più per sensibilizzare e educare alla tutela della propria privacy e sicurezza online.